Ciao amici di Decanto, siamo quasi giunti al termine di questo 2018 e vogliamo concluderlo presentandovi i vini che Decanto ha bevuto nel corso dell'anno e che gli sono piaciuti di più. Cogliamo così l'occasione per darvi anche qualche consiglio su cosa bere durante le scene che sicuramente si sisseguiranno nel corso di queste festività. Per ogni categoria abbiamo selezionato un vino spumante, bianco, rosato e rosso. Per gli spumanti abbiamo selezionato il perle nero di Ferrari, un Trento Doc, una bollicina con la quale potrete aprire le danze ma se volete anche accompagnare un intero pasto. Per i bianchi abbiamo selezionato l'Unter Ebner della cantina Tramin, pieno grigio, che può accompagnare pietanze di pesce speziate o aromatiche ma anche pietanze a base di carne bianca. Non ci siamo dimenticati del rosato e abbiamo selezionato il rogito di cantine del notaio. Questo è un rosato particolarmente strutturato, quindi abbinabile con pietanze di pesce più complesse come ad esempio dei moscardini affogati al pomodoro. Chiudiamo con un rosso, corte di cama di Mamete Prevostini, uno sforzato di valtellina con un patrimonio organolettico davvero variegato e complesso, perfetto per accompagnare pietanze a base di carne molto strutturate ma anche per accompagnare magari un tagliere di formaggi stagionati. Sappiate che di questi vini ci sono sia le video recensioni che le recensioni, per cui se volete avere maggiori informazioni andate sulle nostre pagine social. Alla prossima!